Ciao a tutti ragazzi! Io sono Yoya e lei è Matilda! 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 E lei è Sara! È molto presa perché ha ricevuto una lavagnetta! Guardate il video! Il video di la lavagnetta di CheerFoon! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo questa lavagnetta dell'unicorni! Che te l'ha mandato? CheerFoon! Cosa vuol dire? Allegria! Allegria vuol dire in inglese CheerFoon, allegria! Ci ha mandato questo bellissimo regalo! Ora ci fai vedere dentro Sara che cos'è? Mamma, prima ti avevo detto che cosa? Perché lo tieni ai lati Sara? Perché mi piace da prendere la lavagna! Perfetto! Allora senti, ma CheerFoon ti ha mandato la lavagnetta con l'unicorno che tu ti piaceva tanto! E allora cosa ne dobbiamo dire? Ma grazie! Grazie perché ci ha fatto addirittura scegliere del nostro unicorno preferito! E ragazzi guardate, siamo proprio sotto l'albero appena decorato! E questo non può essere che è un regalo speciale per tutti i bambini! È bellissimo! È bellissimo! È bellissimo! Dai! Apriamo, apriamo, apriamo! Vai, vai! Oh! Oggi devi fare un disegno! Bellissimo! Super bellissimo! Ma Sara ha buon gusto, eh! Ha davvero buon gusto! Non potevamo tenere pure la scatola per quanto era bella! Vero? Vai! Wow! Sara, fallo vedere, fallo vedere, fallo vedere! Ma perché è colorata? Eh, perché? Fammi vedere, fammi vedere! Ma però perché? Non c'è una matita! Ma ci sarà tutto, Sara! Ecco la matita, è rimasta quella! E si! E guardate ragazzi! Quante meravigliosa! Questa lavagnetta! Sara la porterà ovunque, soprattutto in macchina per distrarsi! Questo è perfetto! Questo è il pulsante! Per cancellare! Oh, per cancellare! Ci vuoi trovare? Ecco, qua contiene un pulsante per cancellare! Dai, forza! Facci un disegno, Sara! Ma se vuoi? Da! Prendiamo la penna, Sonia arriva in nostro aiuto! Ecco! Cancella un attimo! Prova a cancellare! È talmente emozionata Sara che... Non si cancella? Le batterie dobbiamo mettere! Sara qua! Bravissima! Bravissima! Quindi? Ahah! Hai visto? Adesso fai un disegno bellissimo, eh! Adesso Sara ci passerà le ore! Perché è il suo regalo che voleva per sotto l'albero! Adesso mi ha fatto due schietti, naso, bocca, sotto, adesso piedi! Bravissima! Ma che chi è? Ma che è? Sì, è fatta! Che cos'è? Chi è? Mamma! Sì, mamma! Ok, mettimi un vestito, un vestito! Un vestito sono nuda! Ok, bravissima! Le braccia, le braccia! Dove sono le mie braccia? Braccia! Ok! Ok, piedini, piedini! Perfetto! E adesso sono... Vedete! Ora mettiamo... No, adesso disegniamo Sonia! Ok! Così sto! Spiderman! Sono Spiderman! Ok, dai, ora disegniamo Sonia! Così è Spiderman! Chi è? Sonia! Ma no! Sei tu, sei tu! Guarda, ti assomiglia! Fammi vedere! Ecco, uguale! Ecco! Eccola! Eccola! I capelli! Io ce l'ho più lungo di mamma! È il cerchietto! Oh, t'ha fatto pelata! Ma! Sei pelata! Non è niente pelata! Ma che corti ce l'ho! Adesso tocca a me! Adesso disegniamo Sara! E papà! Ok! C'era anche papà! Papà l'hai fatto piccoletto però! Sì! Quello è gigante! Vabbè, non c'è spazio! Eh! 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 Che ne pensi? Prima faccio il massino! Oh! Che bello! Bellissimo! Aspetta, non c'è l'ho! E ora! Adesso! Tocca a Sonia scrivere un qualcosa! Oh! E poi! Eh! Oggi è il nostro divertimento questo! Io dopo faccio la strada! Oh! Vero! Un mandorlevo! Tu piaci! Perché? Un cuore! Ti fanno con la punta ancora! Ma perché? Perché fai tanti puntini? Perché tu fai una cosa! Non è la pioggia, eh! La mela! La pera! No! La fragma! Eh! Tipo i coriandoli! I coriandoli! I coriandoli! Prova! Io dopo faccio il tracosaio! L'applauso! Sì! Che cosa? E lo so! E' la verba! Fatto mamma! Aspetta! Non cancellare! Ti ami la Sara! Molto bela! Bravissime! grazie che ci avete regalato questo bellissimo regalo lo consigliamo a tutti i bambini perché è un regalo perfetto per il Natale bellissimo quanto vi siete divertite vi state divertendo con questa lavagnetta Sara ti amo è bellissimo e allora grazie a tutti grazie a Cefun per questo bellissimo regalo e iscrivetevi al nostro canale lasciateci un like per non perdere tutti i video che saranno in arrivo con il Natale e iscrivetevi al nostro canale e iscrivetevi al nostro canale e iscrivetevi al nostro canale e iscrivetevi al nostro canale